Il film di Carnet affronta un problema molto dibattuto dalla stampa francese. Dalla metà degli anni 50 in poi fino alla fine degli anni 50, fino all'inizio degli anni 60, si sosseguono ininterrottamente sulla stampa servizi sulla gioventù, bilanci, inchieste, questionari, sondaggi, reportage di tutti i tipi. Si può dire addirittura che dal 57 al 60 questi servizi costituiscono quasi una sorta di nuovo genere giornalistico che coinvolgono sociologi, filosofi, uomini di cultura vari, cineasti, ma anche uomini politici, anche uomini di governo. Non a caso nel 59 il governo de Gaulle istituisce l'alto commissariato alla giovinezza e allo sport. E questo ci dice una testimonianza del fatto che il problema della gioventù francese è visto in quegli anni come un problema nazionale. Si tenta di dare un identikit di questa generazione che appare totalmente diversa dalla generazione dei padri, che non assomiglia per niente insomma a quella dei padri, anzi è in violento contrasto con essa, con questa generazione. E i caratteri, i primi caratteri che si attribuiscono ai giovani sono la noia, l'indifferenza, la tristezza, un grande pessimismo di fondo. Un sociologo come Gar Moren parla di una generazione addirittura melanconica, una generazione che non ha vissuto il trauma della guerra ma che, lui dice, contemporanea all'atomica. Insomma è una generazione che ha come interrotto i suoi rapporti con la storia, una generazione che nega la politica, una generazione caratterizzata dal disimpegno sociale. Una generazione che cerca di darsi un'identità attraverso dei nuovi riti comunitari. E questi nuovi riti riguardano il modo di vestire, quindi i jeans che vediamo nel titolo italiano del film di Carnet, ma anche i jeans, l'epolo, comunque un modo di vestire che va contro sostanzialmente il decoro e la compostezza del modo di vestire adulto. Una generazione impegnata in feste, a volte con danze sfrenate, che si ritrova nei caffè. Insomma questi sono i luoghi tipici di questi nuovi riti comunitari. E' una generazione che è caratterizzata anche dalla liberazione di molti tabù sessuali, che non crede più ai valori come la virginità, la fedeltà, il matrimonio e che diciamo alla famiglia borghese oppone un'idea dell'amore libero e anche dell'amore plurimo. Cioè l'amore diventa quest'ingrediente fondamentale di una vita senza prospettive, una vita che non ha una prospettiva di futuro, una progettualità, una vita che va accolta nell'istante, nell'immediato. Insomma bisogna vivere ciò che in quel momento si offre davanti a noi. E' una generazione anche colpita dal mito del cinema, in cui ha molta incidenza il cinema e i modelli che il cinema offre in quegli anni. I giovani francesi dell'epoca sono tutti degli ossessivi consumatori di cinema, ma guardano a James Dean di Gioventù bruciata oppure a Labardot di Écré à la Femme di Vadim come dei modelli comportamentali. Per alcuni di questi il cinema, per alcuni di questi giovani, il cinema diventerà addirittura come una nuova religione, come un contempio in cui riversare anche una dimensione utopica del vivere che non trova riscontro nell'esistenza reale. Nel film di Carnet c'è un momento in cui viene messa in scena questa cinefilia attraverso la figura del nero e poi attraverso la rappresentazione della serata alla Cinemateque dove addirittura vediamo l'effigie di James Dean che rappresenta, come si è detto, uno dei miti del periodo. Una generazione ancora che tende a riunirsi in bande, in gruppi, per ovviare al senso di solitudine che comunque sente in maniera molto forte e talvolta l'effetto di questa riunione in bande porta alla violenza, si dà sfogo nella violenza a questa inquietudine giovanile, a questa identità irrisolta del giovane di allora. Questi ragazzi sono visti da Carnet attraverso questo filtro, sono dei scinisci soltanto apparenti, in realtà si rifiutano di riconoscere dei valori tradizionali o, se vogliamo, dei valori universali come l'amore, quindi non sono tanto dei ribelli quanto soprattutto dei bari, come dice il titolo, come recita il titolo francese. Sono dei giovani che rifiutano di fare conti con se stessi, che negano di avere ancora dei sentimenti, insomma, espansivi, su cui possono costruire delle proiezioni di futuro. Quindi non hanno una qualità destabilizzante, non sono dei distruttori, insomma, i giovani di Carnet passano, come si è detto, attraverso il dolore per rientrare, insomma, nei ranghi, per riaffermare, per ricongiungersi con quelli che sono i valori più puri per Carnet, i valori liberatori, insomma, dell'amore. Carnet tornerà, per esempio, sul problema della gioventù pochi anni dopo e su un fenomeno particolarmente acuto di quegli anni, che è quello dei blouson noir, a cui dedicherà nel 60 un film intitolato Terrain vague. Ecco, quindi è una gioventù che gli adulti scrutano come un oggetto misterioso, a cui tentano comunque di fare il ritratto. Le inchieste diventano sempre più frequenti. Quella più famosa avviene a partire dal 3 ottobre del 57 e avviene sull'Espresse, diretta da Françoise Giraud. Questa inchiesta è importante e famosa, soprattutto per un motivo, perché conia il termine nouvelle vague. Il termine nouvelle vague è che all'inizio viene associato alla gioventù francese nel suo insieme, solo in un secondo tempo poi passa a disegnare il nuovo cinema francese. A partire dal 58 già il termine nouvelle vague viene associato al nuovo cinema francese. Si ne parla Pierre Bilar in un numero di cinema e poi con l'esplosione della nouvelle vague cinematografica a Cannes il termine entrerà nell'uso. Alla fine degli anni 50 da più parti si comincia a evocare un film sulla gioventù francese. Si elaborano dei progetti, uno è di Kayat, uno è di Franju, che sono però progetti che non arrivano a essere realizzati. Il film di Carnet invece va in porto. Chiaramente ha un obiettivo sociologico esplicito, a questo obiettivo sociologico si lega un obiettivo più direttamente commerciale. Insomma si tratta di parlare di un fenomeno alla moda che incuriosisce tutti. E non a caso il film sarà campione di incassi, infatti nella stagione 58-59. Carnet mette in scena tutti gli oggetti, i rituali, i tratti caratteristici della cultura giovanile. Il jukebox, la riunione in bande, come abbiamo visto il mito e il rito della festa, del ritrovo nei caffè, la passione per la jaguar, la passione per le macchine, lo scooter comprato dal papà, eccetera, eccetera, ma soprattutto la passione per la musica, la passione per i dischi. E non è un caso che tutto il racconto si innesti a partire da un disco, anzi dal furto di un disco, comincia la storia e si dirà, ma insomma si raccontano le varie vicende dei protagonisti. Si potrebbe anche dire che il film rappresenta in maniera, in verità, un po' di da scalica, di da scalica un vero e proprio defilé della cultura jazz di quegli anni. Si sentono tutti i pezzi più celebri, dei più celebri autori di jazz di quegli anni. Quindi ci sono tutti gli elementi esteriori che connotano la nuova gioventù, la gioventù francese. Lo sguardo di Carnet però è necessariamente uno sguardo non giovane, nemmeno giovanilistico. E lo sguardo, direbbe Truffaut, di uno della vecchia Vague, uno che ha vissuto, insomma, che ha avuto i suoi più grossi momenti di gloria tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40 e che comunque rappresenta quel cinema di studio che i registi, i giovani critici, i futuri registi dei Cahiers du Cinéma stanno in maniera molto violenta attaccando in questo periodo. Quindi è lo sguardo di un vecchio che coglie soltanto degli aspetti, così dicono i critici dei Cahiers du Cinéma, degli aspetti esteriori della gioventù francese che li guarda con un afflato che possiamo definire paternalistico, moralistico, insomma, un po' paternalistico perché l'ideologia di Carnet nel film è affidata alla figura dell'operaio che appunto rappresenta i sani valori a cui bisogna guardare. L'operaio, specialmente nell'ultima parte del film, dice esplicitamente la tesi di Carnet, che è quella che i giovani in fondo sono innocenti, i giovani non sono cattivi e che è la società responsabile dello sbandamento e del disorientamento in cui cadono. I critici dei Cahiers improvvano Carnet anche di avere un atteggiamento romantico legato a una fenomenologia che affonda nel passato non tanto la filosofia dell'esistenzialismo sartreano ma addirittura quella dei surrealisti oppure quella degli atti gratuiti di Gide. Di atti gratuiti si parla esplicitamente nel film, alcuni vengono messi in scena, il furto del disco viene definito un atto gratuito da Alain e un atto gratuito è anche il salvataggio del gattino che Alain non ama ma che compie solo perché dice appunto bisogna vivere pericolosamente, bisogna in qualche modo sfidare la noia dovuta alla normalità, insomma al vivere secondo questi schemi borghese ormai giudicati vuoti. Un'altra accusa che si fa a Carnet è quella di aver mescolato certe mitologie che si sono affermate nella stampa popolare con delle sue mitologie personali per esempio la sua mitologia dell'amore. L'amore viene rappresentato in questo film come un sentimento che riscatta, che redime e la morte viene rappresentata come uno strumento di purificazione cosicché soltanto passando attraverso l'amore, il dolore e la morte questa nuova generazione può superare le inquietudini della giovinezza e affacciarsi nell'età adulta, assumere le responsabilità dell'età adulta e vedere, guardare al futuro e vedere il mondo con occhi nuovamente fiduciosi che comunque sono in qualche modo anche gli occhi dell'integrazione all'interno della società. I personaggi quindi visti da Carnet sembrano sempre secondo il giudizio dei critici dei Cahiers un po' delle marionette comunque dei personaggi privi di spontaneità e di verità si tratta di corpi nuovi ma questi corpi nuovi sono avvolti in un'estetica vecchia in un'estetica che appartiene al passato, alla tradizione corpi nuovi perché troviamo in questo film Jean-Paul Belmondo in un ruolo minore ma insomma che fra pochissimo diventerà un'icona della nouvelle vague troviamo la scoperta di Laurent Terzieff che gioca il ruolo dell'anarchico l'angelo del male in qualche modo colui che innesta tutte le dinamiche del male che ci sono nel film troviamo poi Pascal Petit e Jacques Charrier che diventa immediatamente un divo forse anche poi per il suo legame con Brigitte Bardot e riempirà per poco tempo a dire la verità anche le cronache mondane dell'epoca quindi i corpi nuovi ci sono ma manca qualcosa che li fa vivere sono come impossibilitati insomma a esprimersi liberamente le regole di un vecchio cinema la mescolanza tra corpi nuovi ed estetica nuova si manifesterà di lì a pochi mesi dopo l'uscita del film de Carnet il film de Carnet esce nell'ottobre del 58 nel marzo del 59 esce Le Cousin di Chabrol e poi a Cannes nel maggio del 59 abbiamo la grande rivelazione di Truffo e degli altri poco dopo nel 60 uscirà Boudesouf di Godard ecco che finalmente abbiamo uno sguardo nuovo legato a dei corpi a dei comportamenti nuovi un ritratto della gioventù fatto dal di dentro cioè un cinema che realizza in pieno quell'idea che già nel 57 in un suo famoso articolo Truffo aveva espresso quanto diceva che il cinema di domani dovrà essere un cinema in cui si parla in prima persona in cui sono i giovani che parlano di se stessi quindi fanno dei film che assomigliano a loro stessi parlano appunto dei loro amori dei loro miti insomma ci raccontano in prima persona ciò che cosa sono quali sono le loro inquietudie e quali sono le loro proiezioni